ancora buon viaggio ben trovati con moversi in toscana in studio mauro ciutini sono al momento quattro chilometri di coda sull'a1 tra firenze in prunità incisa reggello c'è un veicolo in avaria in direzione di roma sempre in a1 traffico intenso all'uscita di firenze sud provenendo da bologna per quanto riguarda la firenze pisa livorno personale su strada tra lo svincolo per livorno porto e lo svincolo con l'aurelia in direzione di firenze chiusa per lavori una corsia sulla aurelia siamo tra alberese e santa maria di rispescia in direzione ponte san luigi per quanto riguarda la 1 stanotte verrà chiusa l'uscita della stazione di firenze in prunità per lavori per chi proviene da roma è sempre in a1 la panoramica è ancora chiuso il tratto tra il bivio a1 variante e aglio verso bologna fino al 18 di giugno muoversi in toscana con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze più tardi